Ben trovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni, abbiamo il piacere di incontrare il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Belluno, Dottor Stefano Capelli, che saluto e ringrazio. Un cordiale saluto a lei e a chi avrà la cortesia di seguirci nella chiacchierata. Grazie, Dottore. Partiamo subito ovviamente dalla questione che si è riaccesa in modo comunque significativo in questi ultimi giorni, ovvero quello dell'aumento del balzo in avanti dei contagi Covid anche in provincia di Belluno. Lascio a lei, Dottore, ovviamente farci un po' una panoramica. L'avanzata, il ripresentarsi delle infezioni da Covid-19 in questa stagione e in quello che ci aspetterà in avanti è un evento atteso. È un virus che diventa sempre meno sconosciuto, ricordo che all'inizio era per noi umani esattamente sconosciuto e i disastri che ha combinato sono correlati anche e soprattutto a questa situazione. Oggi abbiamo tante armi, da farmaci a vaccini adattati. Abbiamo delle indicazioni che non saranno verosimilmente più restrittive, ma saranno raccomandazioni. Tra queste mi permetto di ricordare e raccomandare la vaccinazione con il vaccino ultimo, quello con i ceppi attualmente circolanti nell'ultima versione, che può essere effettuato, fra le altre cose, anche nel nuovo centro vaccinale a Salse. Ed è già disponibile per quelle categorie di soggetti, in particolare gli anziani e i soggetti fragili. Anziani intendo quelli che hanno la mia età, over 60. Comunque sei in una fase di convivenza con il virus. Stiamo passando una fase di convivenza. Oggi però tra soggetti che sono ricoverati con il Covid, sono entrati per altri problemi, o soggetti ricoverati per il Covid, quindi con la polmonite, sto parlando della condizione recovery, quindi l'espressione più critica, purtroppo siamo in fase di crescita. Ma siamo in fase di crescita anche con i contagi, saremo in fase di crescita con i ricoveri e purtroppo dovremmo aspettarci anche qualche decesso prossimamente incrementale nell'arco di 15-20 giorni. Una variante che comunque è molto contagiosa, ma meno pericolosa forse? Il punto è che si è raggiunto l'equilibrio che lei diceva, si sta raggiungendo, perché ricordiamoci che sono passati due anni e passa dall'inizio di questa pandemia. Nessuno di noi aveva conoscenze di tipo pandemico, perché bisogna risalire indietro alla spagnola o all'asiatica in qualche modo, sto parlando della prima guerra mondiale e del 56, più o meno, 56-57 quando c'è stata l'asiatica. Questo virus è un virus che come per tutti i virus abita, nasce e si modifica in ambiente animale, i famosi pipistrelli eccetera, e ha fatto il salto di specie come l'hanno fatto anche altri. In alcune situazioni per una serie di elementi concorrenti non si è arrivati per fortuna alla pandemia, ricordo la suina del 2001 o del 2008, non ricordo bene. In altre situazioni purtroppo è accaduto il passaggio, il salto di specie e ha trovato pratterie per potersi diffondere, perché la missione del virus è andare a moltiplicarsi. Lei parlava, dottore, del nuovo centro vaccinale di Salce, un servizio ulteriore che va a potenziare quella che è l'offerta a disposizione del cittadino. Esattamente, il centro vaccinale di Salce opererà, per quanto a noi noto, esattamente nelle stesse modalità in cui operano gli altri centri, raccomando la prenotazione. Purtroppo o per fortuna, dipende dal punto di vista, oggi disponiamo di strumenti anche sui famosi cellulari o piuttosto che sul computer. Mi permetto di sottolineare l'opportunità della prenotazione, perché così il flusso di lavoro diventa più appropriato e, vista dalla parte del cittadino e dell'utente, fra l'altro anche più fluido e più rapido. Quindi gli strumenti tecnologici ovviamente a servizio della collettività, assolutamente sì. Tra l'altro c'è sempre più comunque un utilizzo generale della medicina, dell'implementazione tecnologica per l'attività quotidiana di tutti i giorni. Altro capitolo importante che riguarda l'attività del mondo sanitario, l'ordine in primis, ovviamente l'aspetto della formazione. Sono partiti di recente una serie di seminari, di convegni su varie tematiche, anche qui in molte occasioni comunque a disposizione anche della collettività. Esatto. Allora, siamo partiti con l'attuale Consiglio Direttivo in fase di prima uscita dal lockdown con un corso per i medici di medicina generale con interesse in cure palliative nello scorso anno. Questo corso è stato trasportato con eventi anche nel corso di questo anno solare e si chiuderà più o meno a novembre. Poi abbiamo organizzato corsi di formazione sulla penea notturna in gergo medichese le osas. Abbiamo in itinere già iniziato e in corso un corso di formazione, ovviamente sempre dedicato agli iscritti, che riguarda il dolore addominale dove vogliamo riportare, mi ricollego a quanto lei diceva, la tecnologia è uno strumento e aiuta. Ma non dimentichiamoci che le mani e le orecchie, cioè la vecchia semiotica medica in termini più appropriati, sono un elemento essenziale per guidare, innescare il percorso positivo per giungere a una diagnosi e a una corretta terapia del paziente. Poi abbiamo in prossimissima produzione un evento molto esatto. Questo giusto, dottore, ci ha portato anche la locandina, così riusciamo meglio a coinvolgere anche il nostro pubblico su questa iniziativa? È un'iniziativa dove abbiamo ricercato, abbiamo il supporto della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi, il logo che vedete al centro e il patrocinio dell'Ulss numero 1, sulla gestione perioperatoria dell'anziano fragile. Cosa significa? Oggi la popolazione anziana, qui in questa provincia in particolar modo, ma dappertutto, è in aumento. Gli eventi impropri, non dico inattesimi perché purtroppo sono prevedibili come entità e come dimensione di eventi, il classico esempio è la frattura di femore, comportano uno scombussolamento nella vita dell'anziano e che in genere è anche portatore di tante altre situazioni correlate all'invecchiamento, di problemi cardiovascolari e altro. Ho usato l'esempio della frattura di femore, ma ce ne sono tante altre. La popolazione anziana che afferisce nella filiera assistenziale all'ospedale per risolvere i propri problemi è in aumento. questo evento è strutturato in una modalità frontale di formazione la mattina del sabato prossimo 15 e in una modalità di informazione verso il cittadino utente che è opportuno abbia delle informazioni sia in senso generale ampio, sia in senso di cosa è possibile fare in una realtà quale quella di questa provincia. Poi c'è un momento, chiamiamolo pure, di riscontro se volete anche di tipo conviviale a seguire. Dopo le 18 c'era prima un dibattito e poi una rappresentazione teatrale dove sarà un monologo di una attrice, la signora Coletti, che evidenzia le situazioni anche a volte con possibilità di riderci sopra, in cui si viene a impattare quando si devono gestire i propri genitori. Quindi un'occasione che mescola formazione ma anche intrattenimento e voglia di informazione. È una tipologia, non ho evidenze di altri analoghi riscontri, aperta, volutamente aperta anche verso la popolazione. Ecco, allora ricordiamo, giusto per giusta informazione, sabato 15 ottobre al Teatro Giovanni XXIII per la popolazione dalle ore 18. Dottore, ecco. Quindi questo per quanto riguarda l'ambito della formazione. Era interessante però anche una riflessione, abbiamo parlato di tecnologia, ma anche sull'aspetto dell'umanizzazione delle cure, perché la tecnologia è fondamentale, ma è fondamentale anche il rapporto tra l'altro di fiducia ovviamente che si viene a creare con il proprio medico. Allora, oggi non siamo più nella condizione che posso ricordare io nella mia infanzia del medico condotto con la borsa, non dico col calesse, ma insomma quasi. Però abbiamo a disposizione degli strumenti, sottolineo e metto in grassetto la parola strumenti. Prima ho detto che quel corso sul dolore addominale deve, non dico riportare, ma deve ricordare che la nostra professione è fatta di empatia, di incontro con il paziente, che spesso è un anziano e se informato, formato, aiutato dai cosiddetti caregiver e con una rete che mette in possibilità di strutturare e correggere e integrare le sue esigenze e in questo territorio, meglio di un territorio dove c'è una bassissima densità abitativa in alcuni comuni, io dico sempre quando vado in giro che ci sono comuni in questa provincia che fanno concorrenza all'Uiuta negli Stati Uniti perché hanno una densità abitativa quasi dal deserto del Sahara. Ecco, in queste situazioni quei cittadini sono soprattutto anziani e purtroppo situazioni di anziani soli. Occorre strutturare, pensare prospetticamente a un sistema socio-sanitario locale che dia risposta a queste necessità, che possono anche dover arrivare all'ospedale, ma molte volte debbono e possono avere risposta in loco. Gli strumenti tecnologici aiutano su questo. E la grande criticità del territorio, così come comunque in tutto il contesto paese, è quella della carenza dei medici e quindi qui si inserisce anche le nuove iniziative sempre in ambito di formazione rivolte ai giovani che come ordine avete proposto per cercare di dare un aiuto. Esatto. Allora, noi abbiamo attivato lo scorso anno, in collaborazione con i licei classico e scientifico di Belluno, Galilei e Tiziano, un corso extracurriculare di formazione che si chiama di curvatura biomedica. È un corso triennale, è iniziato l'anno scorso, fanno i ragazzi di terza, quarta e quinta. Questo corso triennale riparte con le terze quest'anno. Abbiamo appena fatto un incontro con i genitori dei ragazzi delle terze, informativo, per dare loro informazioni al riguardo. Signe e l'organizzazione locale è già di fatto predisposta, ringrazio il dottore Germanà che è il consigliere dell'ordine delegato a questo, oltre a ringraziare il preside del Galilei e Tiziano e il personale e la professoressa Collagelli che sono i punti di riferimento in quegli istituti. La soddisfazione, sentendo pochi giorni fa anche ragazze della ex terza c'è stata, l'intento è fare una scelta con cognizione, con elementi aggiuntivi di conoscenza per, se c'è una caratteristica personale, una volontà personale, un talento personale da indirizzare, una scelta fatta su base di informazioni aggiuntive e di nuovo su questo piano c'è che pochissimi giorni fa il Ministero dell'Università e della Ricerca ha modificato quelli che ha torto ragione sono i test di accesso alla Facoltà di Medicina e col prossimo anno accademico è completamente rivoluzionato il sistema. Deve rimanere, e non è un'opinione personale, ma un'opinione della Federazione degli Ordini Medici, una formazione con un numero chiuso perché l'Open Access, io sono una vittima dell'accesso perché sono iscritto nei primi anni 70, l'Open Access è un modo per non fare formazione, per illudere tanti ragazzi, per portare ad abbandoni da parte di ragazzi che eventualmente se fossero stati inseriti in un percorso più appropriato sarebbero invece andati a buon fine, su un percorso che è molto lungo, perché stiamo parlando di 6 più 4, 5, quindi impegnativo, e il buono è che chi ha fatto negli scorsi anni questo corso che noi stiamo facendo di curvatura biomedica, ha superato in quasi il 70% le prove. Le prove nel prossimo anno accademico saranno due, dal prossimo anno accademico saranno due, il Ministero darà le date, i ragazzi potranno accedere non solo i ragazzi diplomati, ma anche i ragazzi di quarta e quinta superiore e una volta diplomati. I punteggi, sarà il materiale informativo disponibile in piattaforma, anche qui con gli strumenti tecnologici, quindi non ci sono particolari cose da fare, i ragazzi che avranno superato queste prove, questi allenamenti potranno tenere conto e scegliere quando arriveranno a fine del percorso, dopo essersi diplomati, il voto a cui meglio hanno dato la sessione con il miglior voto per poter accedere alla facoltà. E quindi speriamo che possa essere un'apertura ulteriore per risolvere questa criticità. Abbiamo ancora giusto un minutino Presidente, però è importante anche questo aspetto, ovviamente inflazione, rincari stanno attanagliando famiglie e imprese, qui adesso l'attenzione è maggiormente focalizzata sull'ambito delle cure odontoiatriche, può essere un problema comunque per alcune persone? Può essere, oggettivamente ho avuto occasione di leggere, perché è stata una lettura casuale di questa situazione di necessità, è programmato specificatamente da parte della Commissione Albo Medici, dal Presidente Dottor Zovi, una valutazione per cercare, non dico di risolvere, ma di sopperire in quota parte a questa necessità. E quindi da lì vedremo appunto anche come riuscire a venire incontro alle famiglie, sperando che la situazione si possa risolvere per tutti quanti noi, ovviamente cercando di trovare un correttivo a questa crisi che comunque ci coinvolge tutti. Presidente, noi abbiamo davvero concluso il nostro tempo, io però la ringrazio come sempre per la sua disponibilità con l'auspicio di ritrovarci presto per approfondire le tante tematiche dell'Ordine. Grazie a lei e ai telespettatori e telespettatrici. A tutti quanti voi una buona continuazione d'ascolto, arrivederci! Grazie a tutti!